Però le faccio due domande intanto da Spin Doctor, alla luce del fatto che tornato a Roma da Bruxelles, tanto Luigi Di Maio quanto Alessandro Di Battista sono tornati a invitare Conte a iscriversi al Movimento 5 Stelle e candidarsi alla guida. Se lei fosse lo Spin Doctor di Conte, gli suggerirebbe di iscriversi ai 5 Stelle o magari a costruirsi un altro partito, oppure nessuno dei due? Sinceramente nessuno dei due in questo momento, l'ho detto prima perché gli italiani hanno fiducia in lui perché lo vedono vicino evidentemente alle parti della maggioranza, ma comunque svincolato. E poi lui, se notate, rispetto a questo è un cambiamento che è stato fatto tra Conte, il governo Conte 1 e Conte 2, nel Conte 1 lui era molto dietro le figure dei due vicepresidenti, che erano due figure di spicco dei due principali partiti, avevamo il capo politico Di Maio e avevamo il leader della Lega Salvini. Adesso lui invece è lui e loro, cioè il Presidente del Consiglio e la maggioranza. Lui si esprime in questi termini.